Ha preso il via l'operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera che fino al 17 settembre vedrà ogni giorno 3.000 donne uomini del corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei impegnati lungo gli 8.000 chilometri di coste del nostro paese. La direzione marittima di Pescara anche quest'anno ha predisposto un dispositivo operativo che prevede un intenso utilizzo delle risorse disponibili allo scopo di garantire il regolare utilizzo della fascia costiera di giurisdizione che comprende le regioni Abruzzo e Molise oltre alle isole Tremiti, così numerosissimi cittadini che nel periodo estivo sceglieranno di trascorrere le vacanze lungo le nostre coste, troveranno ogni giorno circa 50 militari impiegati sia a mare sia a terra con 15 unità navali e 13 unità di terra per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione oltre al principale compito di salvaguardia della vita umana in mare. Particolare attenzione sarà poi posta a tutti gli aspetti connessi alla tutela dell'ambiente della filiera ittica. Tutta la componente operativa del corpo delle Capitanerie di Porto e in particolare della Direzione Marittima di Pescara non impegnata nell'attività di soccorso, attività che rimane principale del corpo verrà impiegata per il controllo, la vigilanza delle aree soggette alla balneazione, in particolare le spiagge e l'area di mare prospicenti. La nostra attività in questa prima fase non è tanto dedicata ai bagnanti quanto ai gestori degli stabilimenti balneari perché la prima attività, il primo check immediato, il più rapido sarà quello finalizzato a verificare che sia stato correttamente istituito il servizio di salvamento, quindi che ci sia il bagnino, che il bagnino abbia il brevetto, che abbia tutte le dotazioni di sicurezza che gli consentono di esercitare la sua attività. Poi naturalmente ci sarà un'attività ispettiva più pregnante, più puntuale, che vedrà non solo l'attività dei concessionari ma anche quella dei diportisti e quella finalizzata ad assicurare il controllo della tutela ambientale e la filiera della pesca.